Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, sono Davide, questo è sempre il mio canale e oggi voglio rispondere a questa domanda che ogni tanto, ogni tanto dico, mi viene posta ed è giusto anche porsi perché uno dice quanti bassi devo avere? Mille, cento, tutti quelli che voglio? Cioè allora, facciamo un paio di distinzioni. Per natura il bassista va da un numero che parte da dieci e viaggia verso l'infinito. Questi sono i bassi che mediamente si aspira sempre ad avere. Però, però, c'è un numero magari più giusto, più saggio. Esiste il numero universale per tutti? È una cosa privata, personale? Probabilmente sì, ma adesso ci arriviamo, vediamo un po' di capire. Perché mi faccio questa domanda? Perché effettivamente sono molte le, diciamo così, le opzioni da considerare prima di acquistare un basso quando se ne ha già un altro o almeno un altro. E le variabili da tirare in causa sono parecchie, insomma, sicuramente prima di tutto c'è la volontà e la possibilità di avere un basso nuovo. Quello diciamo che è alla base. Però, ovviamente, spesso non funziona così. Non è che tutte le volte che voglio comprarmi un basso, prendo e vado a comprarmi un basso. Perché chi di voi è sposato sa benissimo che non si può fare. Chi non lo è, magari comunque deve fare conti anche con altri problemi di tipo economico e non solo. Quindi, insomma, vediamo un po' di capirci. Vediamo un po' di capire come sviluppare questa passione per il nostro strumento. Magari anche senza spendere milioni, miliardi di euro in bassi. Allora, innanzitutto, ripeto, non c'è una regola generale. Diciamo che il primo basso che voi dovreste avere è quello con cui vi sentite più a vostro agio, sicuramente. Allora, quali sono le caratteristiche da considerare quando si cerca un basso, si cerca il proprio basso? Innanzitutto, si deve fare, secondo me, i conti con quello che si va a suonare mediamente. Ci sono strumenti molto versatili che permettono magari di suonare generi diversi o vuoi perché hanno magari un timbro che si adatta più genere. Nel caso del precision, per esempio, il precision ha un suono solo, ma con quel suono si fa più o meno tutto. Oppure versatili, nel senso che hanno la possibilità, spippolando un po' con le elettroniche, cambiando le corde, l'amplificatore, eccetera, di ottenere diversi tipi di suoni che si possono adattare alle diverse situazioni. Ricordate che io parto sempre dal presupposto che un buon suono di base nasce sempre dalla vostra mano, dalle vostre mani. Quindi, qualunque strumento voi abbiate per le mani, considerate sempre che dovete farlo suonare voi. E io voglio prendere il precision perché ce l'ha Stiverris. Sì, ma non avete la mano di Stiverris, neanche io ce l'ho nessuno, ce l'ha a parte Stiverris, ovviamente. Quindi, difficilmente riuscirete solo con il basso a ottenere il suono che sentite sui dischi. Chiaro, questo deve entrarvi un po' in testa. Perché? Perché la ricerca del suono deve passare anche da queste considerazioni. Quindi, magari il vostro genere, quello che fate con la vostra band, è simile a Iron Maiden, però potreste non aver bisogno necessariamente di un precision. Perché magari poi voi, con il precision in mano, non riuscite a tirar fuori un suono dignitoso. Tra l'altro non è semplice proprio il precision in particolare. E quindi cosa fare? Allora, quindi sicuramente la prima cosa da capire è, diciamo, fare un po' una ricerca all'interno del mercato, quello che propone il mercato, e cercare di capire quali sono le opzioni. Numero uno, numero di corde. Quattro, cinque, sei, più corde, cosa fate? Allora, io tendenzialmente sono un po' di parte. Io ho solo bassi quattro corde, tranne un cinque corde che uso come muletto, nelle rare situazioni in cui mi viene richiesto. Ma sinceramente, dopo anni, a provare anche cinque, sei, eccetera, ho fatto la mia scelta. Io sono prevalentemente per il quattro corde. Attenzione, mi sto convincendo di questa cosa. Ripeto, è una scelta mia in base a quello che preferisco fare, il modo che ho io di suonare. Ecco, quindi, ripeto, scelte assolutamente personali. Voi valutate. Valutate. Magari all'inizio un cinque corde, di solito lo sconsiglio. Quindi chi è la prima armi, magari inizia a orientarsi su un quattro, per poi magari valutare di passare ad un cinque in seguito. E qui, diciamo, questa è già l'opzione per avere due strumenti. Se ci si è trovati bene con il cinque corde, ma di tanto in tanto comunque è il cuoricino verso il quattro, ce l'abbiamo ancora, allora due strumenti potreste averli, un quattro e un cinque. Quindi questa già potrebbe essere una valida possibilità, avere due bassi, un quattro corde e un cinque corde. Chi vuole c'è anche il sei. Tenete presente che il sei corde è uno strumento più solista. C'è la sesta corda e la nota alta, il Do, la corda Do, che permette appunto magari in fase solistica di suonare note molto acute, che può avere il suo fascino. Ci sono tantissimi bassisti di tantissimi generi diversi. Pensate da Patitucci a Myung, Myung, come si chiama, quello dei Delentiati, insomma totalmente diversi. Entrambi usano un sei corde. Quindi le strade possibili, percorribili, sono quelle. Però vedete che comunque sei corde piace più a chi ha una certa propensione all'ipertecnica. Quindi magari prendere un sei corde per suonare blues, sinceramente ve lo sconsiglio. Ecco, se il vostro genere è blues, hard rock, rock anni 70, eccetera, anche no. Insomma, poi dopo ripeto, tutto è assolutamente soggettivo e relativo. Quindi comunque, prima caratteristica, numero di corde e nel caso vogliate avere un'alternativa, un paio di bassetti, un quattro e un cinque. Possiamo anche vedere di farli saltare fuori. Poi cosa possiamo considerare ancora? Potremmo considerare magari l'ipotesi di avere un basso fretless. Il basso fretless è un basso che a me piace molto, ne ho uno. C'è chi ne ha più di uno, perché ovviamente il fretless ha come caratteristica principale quello ovviamente di non avere i tasti, quindi permette quel tipo di tecnica sugli slide che viene chiamata il miagolio, quindi far sentire un po'... il fatto che permetta appunto questi glissati sulle corde, un po' alla contrabbasso, diciamo, un po' appunto in questo modo, può essere una cosa che rappresenta una valida alternativa al classico basso tastato, al classico basso coi tasti. Attenzione, ci sono dei bassi fretless che opportunamente equalizzati possono non far sentire la mancanza del tasto sulle parti di groove e poi possono appunto intervenire magari in fase solistica o di fraseggio con questa loro caratteristica particolare. Quindi potreste anche valutare un fretless e con un fretless fate tutto, a meno che non vogliate sleppare, se lo slap diventa un pochino più complicato, si può fare anche quello e si può fare tutto, ma effettivamente non è pensato proprio per quello. Quindi se siete bassisti che da un lato avete intenzione di fare groove con lo slap, ma di tanto in tanto vi piacerebbe questo suono un po' senza tasti, allora ecco qua due bassi, magari anche banalmente due quattro corde, tra cui appunto uno per fare più slap, funk o rock di un certo tipo e l'altro magari fretless per fare cose più morbide e raggiungere un suono di un altro tipo, quindi anche in questo caso potrebbero essere due opzioni, poi avevate il 5 dell'opzione precedente e già diventano tre bassi volendo vedere, ma qua poi dopo si aggiungono, aggiungere è facile, oggi cerchiamo un po' invece di sottrarre, vedere a quanti possiamo arrivare realmente in base appunto anche a motivi puramente economici. Allora, quale potrebbe essere un'altra caratteristica da considerare? Sicuramente parlavamo prima all'inizio del suono, ecco il suono al di là appunto della questione mani, della questione poi di aggiungere un amplificatore e quant'altro, effetti, mica effetti, quello poi insomma le variabili ripeto sono veramente tante, però se parliamo solo di basso ovviamente non possiamo non considerare la questione dei pick up. Allora, ci sono diverse soluzioni in giro, diciamo che le categorie di pick up si dividono fondamentalmente in due, quelli cosiddetti unbucker e quelli cosiddetti single coil. I single coil sono per intenderci quelli tipo jazz bass, quindi un pick up solo e nel caso del jazz bass ce ne sono due uguali. Gli unbucker sono quelli alla Music Man per intenderci, dovete un malloppone di pick up grosso con due schiere di magneti e uno grosso centrale appunto tipo sul Music Man danno un altro tipo di suono un pochino più ciccione, più grosso. Poi c'è questo qua, ecco questo qua è il classico precision, quindi pick up precision vedete sono due ma lavorano come se fosse uno solo, diciamo sono splittati, infatti si chiama split coil se non sbaglio, correggetemi chi è più esperto perché io sulle parti elettroniche sono abbastanza ignorantello, lo ammetto. Quindi comunque questo tipo di pick up prevede due schiere di magneti separate per le corde acute e per le corde basse, questo è proprio il classico precision, questo è un Fender precision, quindi questa è una terza opzione. Ci sono bassi ibridi, ci sono bassi che hanno magari due schiere di jazz basso, un jazz e un precision, un Music Man, quindi un unbucker grosso tipo Music Man insieme magari a un precision o a un jazz, adesso ci sono altri pick up un po' più moderni o non sono molto aggiornato sinceramente, però appunto in base al pick up potete ottenere suoni diversi, quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo un basso che abbia un determinato pick up tipo il precision e poi il Music Man su due bassi diversi che useranno diversi contesti, oppure un ibrido che ovviamente sacrificherà qualcosa perché per mettere due pick up sullo stesso basso verranno messi in posizioni diverse rispetto a come sono messi sul basso originale, per intenderci un basso che ha un pick up Music Man e un pick up precision il precision non ce l'avrà in questa posizione ma sarà spostato leggermente più avanti, più avanti e questa cosa ovviamente influirà sul suono che quindi non sarà un puro precision ma qualcosa che richiama molto il precision ma non è proprio magari quello che uno ha in testa, quindi valutiamo un po' tutte queste opzioni anche, quindi vedete che cominciano a essere un po' tante le opzioni da valutare, potremmo veramente, avessimo il portafoglio pieno, bizzarrirci e comprarli tutti i bassi che vogliamo, dopo traiamo le conclusioni e vediamo un po' qual è il suggerimento vero che vi do. Continuiamo, continuiamo la lista perché poi c'è anche da valutare la questione dei marchi, quindi del basso cosa volete? volete un Fender, volete uno Yamaha, volete un Ibanez, oppure attenzione ci sono strumenti cosiddetti di liuteria, allora sugli strumenti classici di natura classica come il contrabbasso la liuteria è sempre ovviamente da preferire allo strumento di fabbrica, perché? Perché funziona così, perché lo strumento di fabbrica tipo un contrabbasso, tipo un violino comunque ha caratteristiche standard che non sempre rispondono alle esigenze di chi li suona con gli strumenti quindi è sempre meglio andare da un buon liutaio e con un determinato budget dire voglio questo strumento fatto in questo modo, quella è la norma diciamo per esempio per il contrabbasso. Sul basso elettrico invece effettivamente lo strumento di marchio, di marca è un pochino più diffuso rispetto allo strumento di liuteria, però attenzione ci sono liutai che ormai sono diventati veramente veramente famosi, ci sono marchi che sono effettivamente di bassi, di strumenti costruiti a mano, ma hanno dei marchi famosi tanto quanto Fender o quasi, insomma magari non hanno lo stesso tipo di business, lo stesso tipo di marketing eccetera, ma comunque sono strumenti che costano anche molto di più, quindi diciamo che l'opzione strumento di liuteria io lo considero sempre valido, attenzione è un'arma a doppio taglio, certo se andate, faccio un nome dall'Aurus, allora avete lo strumento che sicuramente, voglio dire non ce ne è anche bisogna stare qui a parlarne, tanta è la qualità. Strumenti magari di liutai meno conosciuti vanno provati, a volte si fanno dei grandi affari perché trovate magari il liutaio emergente veramente bravo e quindi trovate lo strumento che è veramente una bomba e ce l'avete solo voi, questo secondo me è un enorme vantaggio, io ho praticato questa tattica per parecchio tempo in passato, quindi di cercare liutai e bassi di liuteria meno conosciuta per risparmiare qualcosa, avere comunque degli strumenti molto particolari e abbastanza unici nel loro genere, quindi questa potrebbe essere un'opzione, altrimenti appunto andiamo sui classici marchi, classici marchi vabbè io non sto neanche a dirlo, credo che si sia abbastanza capito guardandosi intorno quando faccio i video Fender tutta la vita, ho diversi bassi Fender e sono quelli che preferisco, ripeto sono tutte considerazioni assolutamente soggettive, c'è chi odia Fender, la mia ne ha tutti i diritti assolutamente, quindi io vi dico una cosa, un altro vi potrebbe dire assolutamente l'esatto opposto, ripeto sono tutte valutazioni soggettive, come faccio quindi a decidere? Allora prima, torniamo indietro un attimo, prima di tutto abbiamo detto che dobbiamo stabilirlo in base a che genere suoniamo, a che genere suoniamo e a che genere suoneremo, allora se voi siete quelli che vanno in giro con la manettina degli Aromedene, con il chiodo anche il 15 di agosto, probabilmente non cambierete mai modo di suonare, ok? Presumibilmente se lo fate per obbio, comunque se avete la vostra band di inediti eccetera, se siete tra virgolette un pochino più mestieranti o comunque quello è l'obiettivo, quello di suonare più generi possibili, cercare di imparare tante cose, di voler suonare musiche di tipo diverso eccetera, allora dovreste e potreste orientarvi su strumenti anche diversi tra di loro, quindi magari avere un'arma in più nel vostro arsenale potrebbe non essere così sbagliato, quindi queste sono le cose che dovete valutare, fatevi un esame di coscienza, dopodiché quando avete un po' ristretto il cerchio sul quanti, vediamo quali, quindi andate a provare i singoli strumenti e cercate di capire cosa suona bene per voi, ripeto non affidatevi a quello che sentite sui dischi, perché prendere un musicman per dire eccoci faccio i dischi dei redotti degli anni 90, non è vero, perché poi prendete in mano il musicman e non suonate come Flee, non ce n'è, è così, ci sono passato sulla mia pelle e ve lo posso garantire, come si fa? Trovate il vostro strumento, provate, riprovate, provate il vostro amplificatore, attenzione sugli amplificatori, poi magari faremo una lezione a parte perché siamo in un'epoca storia abbastanza particolare dove è cambiato tutto rispetto per esempio a 20 anni fa quando si andava in giro con le montagne, adesso si cerca sempre e solo le dimensioni ridotte, il peso ridotto, quindi è cambiato un po' tutto, però diciamo che capita ancora di dover suonare con l'amplificatore, se andate nel pub sotto casa a suonare, l'amplificatore lo deve portarvelo, difficilmente avrà l'impianto, la di A, i sistemi, chissà che cosa, no, certo, portarsi l'amplificatore se no non ci si sente sul palco, punto, e quindi dovete scegliere anche quello, copiata, basso, ampli, eccetera, quindi sono tanti i discorsi da mettere sul tavolo quando si parla di personalizzare la propria strumentazione. Tornando al nocciolo della questione e quindi di quanti bassi dobbiamo avere, allora io vi svelo il mio segreto, io ne ho quattro, ho tre Fender di cui due Jets e un Precision e ho un Simil Musicman che non è un Musicman ma un Echo Musicman che costa un decimo e ha una resa veramente notevole, perché? Perché a me servono questi bassi, poi di tanto in tanto ne salta fuori uno, ne va via un altro, eccetera, attenzione non dovete spendere migliaia di euro, valutate sempre la questione in base alle vostre possibilità economiche, inutile che spendete 4.000 euro per uno strumento che poi usate due volte al mese, cercate un po' di essere razionali in questo, a meno che non diciate sì, lo è vero, lo voglio due volte l'uso due volte al mese, ma deve essere il mio strumento della vita e allora prendete uno anche da 6.000 euro. Ripeto, sono tutte questioni soggettive, quindi ognuno può decidere veramente con la propria testa. A mio modo di vedere è il momento in cui avete due bassi, quindi uno che è il vostro, quello che avete deciso di usare e riuscite ad adattare un po' per tutto magari perché è versatile, e un altro è semplicemente un muletto, che usate magari, dovete fare tutto il giorno in macchina e quindi non volete portarvi dietro lo strumento, portate dietro quello da 100 euro che se lo fottono, in buona sostanza, potrebbe anche fregarvele un po' di meno, se vi fottono lo strumento da 5.000 euro magari cambia un po' il vostro umore. Quindi queste sono, ripeto, tutte le mie considerazioni, dopodiché fatevi veramente autocritica. Cosa suono? Cosa ascolto? Cosa vorrei suonare? E allora sì, e allora potete magari pensare di optare per una o per l'altra soluzione, per uno strumento solo, ma veramente bello, per 5 strumenti leggermente diversi uno dall'altro che vi servono in diverse soluzioni. Più strumenti, più pensieri, più cose da portarsi in giro. Meno strumenti, meno pensieri, magari meno versatilità, ma dipende poi dallo strumento. Quindi non vi ho dato una risposta, lo so benissimo, perché secondo me la risposta è quanti strumenti devo avere, quanti ne vuoi avere o quanti ne puoi avere. Decidi tu, non c'è assolutamente nessuna differenza da un punto di vista finale. Mi spiace averti deluso, ma questa è la mera realtà. Bene, vi ho detto tutto, spero di avervi soddisfatto. Se vi è piaciuta questa lezione, se avete qualcosa, se volete anche semplicemente dirmi che strumenti avete, ecco, sarei molto curioso, me lo scrivete qua sotto nei commenti, vediamo un po' di fare anche una sorta di sondaggio su quali sono gli strumenti più utilizzati da chi mi segue qua sul canale. Per tutto il resto, no, non c'è la carta di credito, ma per tutto il resto potete continuare a seguirvi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, mi trovate su tutti i social possibili, immaginabili, ma soprattutto, come dico sempre, mi trovate a casa mia. Vi saluto, ciao! Ciao!